Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti ad un nuovo video che questa volta ho deciso di dedicare alla nuovissima collezione dei Mojipops Party Series sempre by Magic Box, che ringrazio tantissimo per avermeli inviati. In questo video vi ho messo tutti i vari prodottini che adesso andremo a scoprire insieme che potete trovare in edicola. Abbiamo qui con noi questa nuovissima enorme bustona, che è lo starter pack di questa nuovissima serie dedicata ai nostri amatissimi Mojipops. Tra poco l'apriremo così scopriremo il contenuto insieme e ci sono davvero tantissime novità. Ben sei bustine di questi nuovissimi Mojipops, carinissimi, super simpatici, questa volta ce ne sono più di 90, tutti da collezionare. E come vi ho appena detto ci sono tantissime novità di questa nuova serie con le Club Rooms e le Club Houses. Naturalmente con all'interno Mojipops e tantissimi accessori esclusivi. E partiamo subito dallo starter pack, che è enorme, il cui costo è 4,90€, come ci dice bello in grande qui sopra. Qua davanti ci mostra il contenuto della bustona, quindi una guida delle varie attività, che è il giornalino che vedete qui dietro, due Mojipops, che sono a sorpresa, infatti ci sono ben due bustine da aprire al suo interno. Un Mojipops perlato, è quello che vediamo qui dentro, vedete un po' perlatino. All'interno di questa casettina, che è la Club Room Glitter esclusiva. E questa Club Room glitterata la possiamo trovare solo con lo starter pack. E sempre esclusivo è il portachiavi, che è questo pipistrelloso, che vediamo sempre impacchettato al suo interno. Quindi adesso andiamo a spacchettare il tutto, perché come sempre sono curiosissima. Ed eccoci qui che siamo andati a spacchettare il tutto, scopriamo tutte le attività e le novità del giornalino, attività divertenti all'interno, scopri nuovi Mojipops, che come abbiamo detto sono più di 90, tutti da collezionare. Qui davanti ne vediamo ben 4, alcuni sbrilluccicosi. Questo sembra che abbia dei brillantini. E poi vedremo che c'è anche quello, come abbiamo visto, perlato. All'interno ci sono anche più di 50 figurine adesive, tutte da collezionare e per fare le nostre attività divertenti. All'interno del giornalino anche più di 10 attività e giochi. Davanti ci espongono un personaggio un po' particolare, che è l'esclusiva Poppy Celebrity, quindi un personaggio nuovissimo e raro. E ci dice, appunto visto che la serie è dedicata alle feste, divertiti alle pazze e feste dei Mojipops. Se volete andare a scoprire tutte le novità dei Mojipops, c'è il sito www.mojipops.com. Aprendo il giornalino, vediamo subito che c'è l'indice che ci mostra il contenuto di questo giornalino. Qua ci dà già una panoramica delle varie novità. Infatti ci mostra subito che ci sono i nuovissimi Mojipops glitterati e perlati. Brillano, come mai prima d'ora ti piacerebbe conoscerli. Qua ci fa vedere che possiamo montare insieme le varie club rooms e quindi possiamo costruire il nostro Mojiclub. Guardate che bello! Sulla Clubhouse, quindi possiamo creare veramente una casetta. Le emozioni sono cambiate, infatti ce ne sono ben 12 nuove. Tantissimi nuovi stickers per decorare il nostro album. Ed eccole qua le nuovissime, 12 nuove espressioni di questa nuovissima serie. Possiamo quindi capovolgere l'espressione per renderla uguale, per esempio, al nostro umore. E comunque ci sono possibilità infinite, qua ce le mostrano. Vedete, nuove emozioni, guardate che simpatiche. Eccole qua tutte e 12. Questa qui quando un altro Mojip gli fa una sorpresa. Ogni volta che i suoi amici dicono cose divertenti si ride a crepa pelle. Quando si condivide un segreto con il proprio miglior amico. Qua un po' furbetta quando sta per fare uno scherzo. Qua quando la festa non è proprio di suo gradimento, sembra che non si stia divertendo molto. Qua coricciosa quando vede il suo Mojipop preferito, un po' innamorato diciamo. Qua nello specifico quando macchia di cibo la tovaglia. Quando mangia qualcosa che non gli piace affatto, un po' disgustata. Qua un po' tenera perché deve chiedere un favore a un altro Mojipops. Quando si arrabbia con un altro Mojipops. Quando non vede l'ora di festeggiare con gli altri Mojipops. E quando ha nostalgia dei suoi amici, un po' piagnucolosa. Qui sotto vediamo per bene le varie novità. Quindi benvenuti nel club. I nostri Mojipops vivono tantissimi emozionanti, nuove avventure. Qui possiamo cambiare la scritta, change the chat. Qui ci fa vedere che anche in questa collezione ci sono i Mojipops speciali, diciamo un po' rari. Glitterati e perlati. E qua ci parla della nuovissima e ultra rara Poppy Celebrity. Rallegra tutte le feste, sempre un sacco di buone idee per divertirsi con progetti creativi, giochi, pranzi e ceni. E indovinate? Ho proprio la Poppy Celebrity qua con me. Guardate che carina. È proprio ultra rara. Ve la faccio vedere bene da vicino. Infatti è tutta doratina. Bellissima con la scritta party. All'interno ci sono tutte cose per divertirsi. Quindi i vari coriandoli, striscioni, stellini e tutti glitterati come la stellina che ha qui in testa. Qua davanti è super sorridente con i suoi occhialini. Dobbiamo sgusciare fuori la sua espressione. Ed eccola qua chi c'è dall'altra parte. Lei è ancora più fessosa, troppo simpatica. Qua ci fa vedere le varie idee che Poppy Celebrity ha organizzato per gli altri emoji. Quindi picnic nel bosco, flower power party, quindi dedicato ai giardini e ai fiori, festa gourmet con tante prelibatezze da mangiare, festa a tutti i frutti nei Fruity's Club, laboratorio fai da te con i Crafty's Club, oppure festa a casa per rimpinzarti di torte e a ballare nella Homies Club. Da qui ci mostra meglio, in due pagine, ciascuna festa. Si parte dai Cuties e ci mostra quindi i vari emoji pops di questa collezione. I Cuties sono quelli più incantevoli e teneri, non vi viene voglia di abbracciarli perché sono quelli più carini e cuzzolosi. I Cuties fanno picnic nel bosco, insomma la festa organizzata per loro è proprio questa. Ci sono vari animaletti tenerissimi, scoiattolini, varie renne, i gufetti e di ciascuno ci mostra il nome, le due rispettive colorazioni e le espressioni che possono avere. Di ciascun gruppo poi ci mostra quelli speciali, quindi questa qui, Betty, che è quella glitterata, e Stinky, che è quello perlato. Qua poi nel Cuties Club ci sono varie attività e qui vediamo una bella scritta che ci dice Sticker Game numero 2. Infatti, come vi ho detto all'inizio, all'interno ci sono tantissimi stickers per divertirci, come questi qua sotto, che sono degli stickers extra per decorare album, diari e quaderni. E vediamo la scritta Sticker Game, ci dice usa le figurine adesive di questo foglio e ci indica anche a che pagina il nostro giornalino utilizzarle. Vedete, è Sticker Game 2, quindi a pagina 7, proprio dove siamo noi. Eccola qui, completa la festa, quindi decorandola con questi tre stickers. E poi, proseguendo nel giornalino, vi farò vedere le altre feste dove ci dice la pagina, quindi andare a decorare. E ci sono anche tantissimi giochi per divertirci in compagnia dei nostri Mojipops. Si passa poi al gruppo dei Gardeners, che sono degli artisti di botanica e del giardinaggio, adorano stare all'aria aperta. Vi faccio vedere i personaggi di questo gruppo, ci sono lumachine, funghetti, alberelli, api. Questo è stupendo, questa rosa perlata, bellissimo, mi piacerebbe davvero trovarla. In questo gruppo, quelli speciali, sono il funghetto, che è glitterato, e appunto la rosa perlata. Anche qui, Sticker Game 2, il gruppo dei Foodies, quindi con tantissime cose da mangiare per festeggiare insieme. E in questo gruppo ci sono cheeseburger, waffles, panini vegetariani, spaghettini cinesi, colazione con cereali, frappè, quelli speciali appunto sono il frappè, che è quello glitterato, e la fettina di torta perlata. Miam miam! Anche qui da decorare con gli stickers. Qua ci mostra varie attività e giochi da fare con i nostri emoji pops. Guardate, per disegnare varie giochini divertentissimi. Passiamo ad un altro gruppo, quello dei frutti dolci rinfrescanti, sempre piacevole trascorrere un pomeriggio con loro. Celebrano il nuovo raccolto dei vari frutti con una festa ricca di sapori e cose dolce. Ve li mostro, c'è l'arancia, c'è la macedonia, le cigluevine, guardate che carino! Tutta perlata, che è quella speciale, e questa dovrebbe essere la mela, tutta glitterata, speciale anche lei. Poi c'è il succo di frutta, e la banana. Poi abbiamo la festa crafties, e qui ci dice che sono molto creativi, infatti dove qualcuno vede una semplice scatola di scarpe, e loro vedono un castello per vivere mille avventure. E qua ci fa vedere i vari protagonisti del gruppo, quindi la forbice, il gomitolo di lana, la tavolozza per pitturare, l'evidenziatore, la colla, questo martello, e il pennello, che è uno di quelli rari, glitterato, mentre il gomitolino di lana è quello raro perlato. Ultimo gruppo, che è quello degli umis, dove la tua casa è dove risiede il tuo cuore. E qui c'è la lavatrice, quella rara perlata, il tostapane, il bici, con tanto di carta igienica, aspirapolvere, forse è una banjur, quello glitterato, la pentola che bolle con il mestolo, bellissima la moca con il caffè, la tazzina, e la vasca da bagno. Poi qua ci mostra i pack speciali con I Love Mojiland, è Sunny Beach, quindi con la cabina, il bagnino, l'ombrellone, la sdraio, la crema solare, gli occhiali, e qua questi moji che si stanno divertendo tantissimo a fare il surf sulle onde. Poi c'è il food truck, quindi con il camioncino per comprare tutte cose buone da mangiare con la macchinina, ed è un po' a base messicana, infatti ci sono burrito, nachos con guacamole. Poi qui c'è la festa in piscina, pool party, bellissimo, guardate, la nostra ferris wheel con la ruota panoramica luminosa, la casa sull'albero, le scalette, una casettina accogliente al calduzzo, c'è anche questo cestino per scendere, l'altalena, e qua che vi mostro velocemente, se no andate a scoppiazzarle, le varie soluzioni dei vari giochi. Qua ci mostra tutta questa nuova collezione con le varie bustine, le club rooms, le club houses. Qua ci sono i pack speciali che apriremo nel nuovo video. Qua poi c'è tutta la collezione che abbiamo appena visto, divisi nelle varie feste. Qua con il pallino ci dice quali sono quelli teneri, quelli rari, quelli col cuoricino in edizione speciale, e quelli col diamantino davvero esclusivi. E poi qua ci mostra le varie finiture, quindi glitterate o perlata e dorata. Partiamo per primo dal portachiavi esclusivo pipistrelloso. Vi faccio notare, si tratta di Betty, il pipistrello. Shooties. Apriamolo. Eccolo qua, troppo simpatico. Con tanto di fragoline e cuoricini che ci sta dando un bel bacino. E partiamo dalla prima bustina. Ve la faccio vedere velocemente con i vari emoji di questa nuova collezione. Qua ci dice che all'interno ce n'è solo uno. Quindi qua c'è l'apertura facilitata. Apriamola. Vediamo di chi si tratta. Abbiamo trovato Prue, che dovrebbe essere il tagliaerba. C'è il pallino bianco, quindi è comune e appartiene quindi al gruppo dei gardeners. E questa è la sua altra espressione troppo simpatica. E andiamo ad aprire anche la seconda bustina. Vediamo. Qualcuno di azzurro glu è la colla. Troppo carina. Glui. Anche lei comune. Questa espressione è troppo simpatica. Penso che terrò proprio questa. L'altra invece è un po' più disgustata. Giunto il momento di aprire la club room esclusiva glitterata. Vi faccio notare che qui in alto è super floreale con finitura però perlata. La scritta Mojipops. Invece tutta la struttura sempre decorata molto molto bene con tantissimi dettagli. È arancione trasparente glitterata così come l'erba. Qua se vedete c'è questa rientranza proprio per impilari le varie club rooms. Qui in alto invece possiamo cambiare la chat. Vedete qua c'è un profumo con la scritta like possiamo andare a sostituirla per mettere quella che più ci piace. All'interno c'è un Mojipops esclusivo quello perlato quindi uno di quelli rari. Eccola qui nel gruppo dei Yumis come vedete ha il cuoricino infatti è una di quelli special edition ed è la lavatrice tutta perlatina di Amasofi ma è molto più tenera da quest'altro lato. E andiamo a spacchettare queste sei bustine che ho qui con me. queste bustine sono sempre con all'interno un singolo personaggio partiamo dalla prima vediamo ah ma qui c'è la checklist ma è l'aspirapolvere e la nostra aspirapolvere eccola qui si chiama Uvi è nella sua seconda colorazione quindi quella gialla e fa parte di quelli comuni eccola qui con tanto di rotelline anche lei ha la spina sul retro seconda bustina vediamo di chi si tratta ma è un animaletto tenerissimo del bosco con tanto di fogliolina ed è naturalmente nel gruppo dei cuties eccolo qui nella sua seconda colorazione nella sua seconda emoticons invece è meno cute e un po' più arrabbiatino terza bustina vediamo che carino è l'evidenziatore ecco c'è proprio la scritta marker dall'altra parte è tutta da coccolare sta piangendo ed eccola qui si tratta di Mark anche lui comune quarta bustina vediamo ma che carino è il waffle mmm gnam gnam eccolo qui waffi nella sua prima colorazione anche lui comune quinta bustina vediamo oh la bananina bellissima anche qua guardate che bella la sfumatura dal giallo al verde e invece di qui sta ridendo a crepa pelle si chiama nana è nella sua prima colorazione sempre comune fa parte naturalmente del gruppo dei fruttees ultima bustina vediamo chi è anche questo sarà nel gruppo dei teneroni ed eccola qui anche lui comune si tratta di squirly nella sua prima colorazione e ora è giunto il momento di aprire le tre scatoline dedicate a questa vita appunto la club room questa stanzettina diciamo con all'interno un mojipop e possiamo cambiare la scritta emettendo l'espressione che più ci piace e partiamo dalla prima qua c'è l'apertura facilitata strappiamo il tutto eccola qui colori bellissimi era un innaffiatoio poi c'è la palettina per il giardinaggio una rosellina un fiore anche qui dei fiori quindi è dedicato ai gardeners qua la chat con la scritta love ed eccole qua le varie casettine andiamo a scoprire chi c'è all'interno vediamolo ma che simpatico è proprio del gruppo del giardinaggio è la lumachina eccola qui infatti anche lei comune si chiama slow mo di qua invece non particolarmente felice eccola qui l'abbiamo infilata pronta per essere esposta sul nostro comodino sulla nostra scrivania bellissima passiamo quindi alla seconda amola oh questa è diversa sul giallo che carina questa è proprio del gruppo dei creativi una lavagnetta con un pastellino un gomitolo di lana con i ferri le forbicine latta di pittura con pennello ed è proprio quella del crafty's club copriamo il moji all'interno ma è ancora la colla eccola qui sempre gluey nella sua seconda colorazione quindi ce l'abbiamo in tutte e anche lei eccola qui pronta per essere esposta terza casetta apriamola che bella un'altra diversa questa è dedicata ai foodies eccola qui con tanto di sale porchettina e cucchiaione carotina mela apriamo il moji all'interno vediamo oh che bello è il panino vegetariano se non ricordo male si tratta di baggy e proviamo a impilare le nostre casettine ed eccole qui che le ho impilate tutte e quattro ma quanto sono belline tutte insieme super coloratissime terminiamo il nostro video con le club houses che sono un po' più grandine vedete è proprio una casettina con tanto di porticina e finestrella possiamo sceglierle queste infatti vediamo che questa qui è dedicata al foodies questo crafties in ciascuna all'interno c'è un solo moji pops ma ci sono tre accessori esclusivi dietro ci mostra tutta la collezione ci dice che in totale sono sei da collezionare partiamo da quella dei foodies qua vi faccio vedere che c'è scritto chat and dance quindi anche qui possiamo cambiare le espressioni in alto e anche farli danzare su la rotellina che vedo qua e iniziamo a spacchettare la prima vediamo ma che carina qua c'è un buco enorme con questo cartoncino con i vari membri del gruppo vi faccio notare che qua c'è la finestrella mettere la chat che preferiamo carotina e broccoli questo sembra del sushi uova nella padellina ops qua qualcuno si è sporcato a mangiare qua sotto c'è una pianticella con dei fiorellini delle lucine il menu esposto per aprirla vedete che qui c'è la cerniera si fa così carino è proprio una casetta in miniatura con tanto di tappeto e fornine vediamo l'interno carinissimo c'è anche un carrello e scopriamo subito eccolo qua il nostro emoji che abbiamo trovato che carino si tratta di cioccolocchi cioè cioccolata calda in tazzina con cucchiaino e panna montata anche lui comune e andiamo subito a scoprire gli accessori che ci sono all'interno eccoli qui tutti e tre un tavolino con tanto di tovaglia e tovagliolino una bibitina con tanto di cannuccia ghiaccio e fetta di limone poi guardate che carina la padellina con tanto di spaghetti polpettine come vi dicevo possiamo andare a infilare dentro il nostro tavolino oppure possiamo mettere direttamente il nostro emoji per divertirsi a danzare un mondo poi possiamo prendere tutti i nostri accessori richiudere il tutto e portarlo sempre con noi ed eccola qui nel gruppo dei crafties quindi dei creativi con tanto di tavolozza e pennello pastelli a cera guardate qua la chat qua la latta di pittura che si rovescia il martello che sta picchiando un chiodo un origami credo il filo con il lago dietro ci mostra tutto il crafties club con i vari membri quindi andiamo ad aprirla vediamo ancora comune ed è la macchina da cucire eccola qui si tratta di tovi e vediamo gli accessori dei creativi allora qui c'è un bel trepiede con schizzate di pittura un pennello una valigetta con degli attrezzi per il lavoro vedete vi faccio vedere la casetta all'interno guardate che bel tappeto pieno di stelle la casa che è completamente sporca concludendo dei prodottini super simpatici divertenti coloratissimi ci vediamo la prossima volta con un prossimo video vi mando come sempre un bacione e un saluto da Wonderstefi ciao ciao